... Rimpiesi campeggiatori, camperisti e campanari, mettetevi gli scarponi! Oggi fa freddo! Qui fa freddo ogni giorno, fa freddo! Non siamo qui a Miami Beach, sai? Dessi infatti, è davvero che in tanta mattinata dovete aspettarvi un viaggio difficile, perché c'è una bufera in arrivo! Una bufera in arrivo? Già! Aspetta un momento che leggo le previsioni! Dunque, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una grossa bufera in arrivo, è vero! Ma in ogni modo c'è un altro motivo che rende questa giornata particolarmente fredda! Sì, fredda, ma emozionante! La grande domanda sulle labbra di tutti è... Sulle labbra screpolate! Sulle labbra screpolate! E va bene, quando Phil la marmotta verrà fuori, vedrà la sua ombra! Anza, tu di Phil! In gamma, marmottine e marmotoni! Oggi è il giorno della marmotta! Su, alzatevi e venite in cerca di marmotte! Approfittatevi! Approfittatevi!